Pedofilia all'interno della diocesi di Savone. È arrivato fino in Vaticano un dossier su presunti abusi, tutti da verificare. Verrà esaminato da una commissione speciale. A consegnarlo al Papa, una donna molto attiva e in curia. L'ha incontrata Emanuela Pericu. Per questioni così importanti bisogna andare fino in fondo, così Luisa Bonello, medico savonese, spiega la sua decisione di portare direttamente al Vaticano un dossier sulla vicenda pedofilia nella sua diocesi. Per lei tutto nasce qualche anno fa, quando due suoi pazienti le raccontano di abusi subiti da sacerdoti. Lei profondamente credente, allora ministra dell'Uncarestia, approfondisce l'argomento e quindi si rivolge al suo vescovo. Poi in assenza di riscontri ci racconta, contatta il Vaticano. Che tipo di materiale ha portato a Roma? Lettere in cui si dimostra che i nostri ultimi quattro vescovi sono mertosi perché sapevano già benissimo da anni e anni. Poi ho portato delle testimonianze di ragazzi abusati. Il mio vescovo, vedo qua sul giornale, che dice che dico delle falsità, ma sarei proprio stupida andare fino in Vaticano se non sono sicura di quello che porto, ecco. Che tipo di risposta ha avuto dal Vaticano? Molto buona, veramente molto buona. Ho detto chiaramente a questo altro prelato, spero che qui in Vaticano non ci sia omertà, perché sennò è finita per me. E lui cosa ha risposto? E lui mi ha tranquillizzato tantissimo dicendo che adesso ai tempi di Papa Francesco queste cose non possono più accadere. E così la pratica savonese l'è stato spiegato, a questo punto arriverà alla Commissione Vaticana Antipedofilia.